Dopo la lettera dell'ex sindaco di Favara, Lorenzo Airo, scrive Don Diego Acquisto, parroco della chiesa San Vito di Favara. Lo stesso, nella nota indirizzata a Sicilia TV, ha apprezzato il fatto che l'ex sindaco, con la sua lunga e dettagliata lettera, ha detto il motivo per il quale, durante i suoi cinque anni di amministrazione, si è perso del tempo nell'assegnare le case popolari. Don Diego spera che la stessa chiarezza venga fatta anche dal responsabile dell'OIACP con pubbliche spiegazioni che vorrà mettere su carta. Sicuramente leggendo le spiegazioni delle due campane, dice Don Diego, ne risulterà un contributo prezioso alla crescita della civiltà e della democrazia, perché ogni cittadino potrà formarsi il suo giudizio e al momento giusto trarne doverosamente le conclusioni. Al di sopra di tutto, senza volere puntare il dito su nessuno, Don Diego dice la sua. Secondo lo stesso, quelle palazzine popolari semidistrutte, al di là di ogni spiegazione, sembrano essere un monumento muto, ma eloquente del modo come la politica ha sin ad ora affrontato e condotto i problemi. Anche quelli della povera gente, dice Don Diego, e le emergenze sociali che interessano soprattutto le fasce sociali più deboli. Ma lo stesso Don Diego fa un mea culpa. Noi tutti dove siamo stati, dice, dove siamo stati preti e laici, burocrati e politici, operatori dell'informazione culturali, cittadini di tutte le colorazioni politiche e di diversa sensibilità religiosa. Dove siamo stati? Almeno adesso, dalle immagini delle case popolari semidistrutte, da questo monumento muto ma eloquente, contemplato e meditato sullo sfondo della tragedia, dice Don Diego, può e deve venire fuori da parte di tutti, ognuno nel ruolo che occupa, un risveglio delle coscienze per un cambiamento radicale di rotta a 360 gradi. Dopo la tragedia devono partire da Favara segnali veri, teorici e pratici di sostanziale cambiamento. E allora Don Diego si chiede, perché nel prossimo futuro non pensare ad un'assemblea popolare, ad un consiglio comune all'aperto per raccogliere idee e fissarne i propositi?